Uno schiaffo, una spinta, una frattura. Sapeva cosa stava facendo. Non era l'alcol, non era lo stress, non era la rabbia, è lui. Se ti picchia, non ti ama. La violenza fisica è un atto grave, ma denunciata, sempre. Io Lotto è l'iniziativa del Comune di Napoli finalizzata alla promozione dei centri antiviolenza, nata per sensibilizzare le donne vittime di maltrattamenti a denunciare i loro oppressori. I centri di ascolto possono darti un aiuto concreto, anche solo con un consiglio. Chiamaci al 1522 oppure scrivici in chat. Grazie a tutti.